Ehi la ciurma! Io sono Mazzia Stessa e ben ritrovati qui nuovamente su Alien Breed Impact. È una vita e mezza che non continuavamo più questa serie ed è davvero una cosa molto 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 triste. E io tra l'altro non mi ricordo più un Kaiser e continuo a dove cavolo eravamo arrivati, boh avanti WSD ma qua mi indica solo quelli da tastiera mentre io non sono su tastiera ma sono sul controller Super Mega Power e quindi devo anche ricapire un attimo quali erano i comandi perché... Con la levetta a destra si mirava e con quella a sinistra ci si spostava e fin là... Ok Poi questo cos'è? Non lo so Ah questo è il colpo ravvicinato Questo corre Questo ricarica Questo spara, l'altro userà il... E questo è il ruota Ok Cosa dovevamo andare a fare qua? Non ricordo proprio nulla Allora Start No Select Dove dovevamo andare qua? Colture idroponiche Eeeh... Eeeeeh... Eeeeeh... Giocatore 1 Se o no, gli obiettivi è quello la Ok, dobbiamo raggiungere le serie idroponiche Non mi piace, iniziamo già beneeeeh... Facciamo... Vedere... A questi stupidi allenuncoli chi è che comanda qua Di sicuro comanderanno loro Anche perché io sono diventato stranabissimo ormai Ok, con questo si interagisce con gli oggetti Ah, sono proprio idiota Sono abituato adesso con i giochi di macchine In cui bisogna... Accelerare con quello Non mi piace il fatto che ci sia... Lo spazio per una presa di alimentazione No, ma l'obiettivo è di là Ok Hai tirato strategica? C'è qualcuno qua no... Però c'è un corpo umano Semplicemente crediti Poi c'è una grata Sto dentro e sto laggando Si è bugato là dentro E' morto? Se ve lo dissi Ah, fucili d'assalto, ottimo Allora, là ci sono degli insettuncoli Mica tanto carini Però il fatto è che l'obiettivo sarebbe Qua sotto Uh, riconoscimenti Grazie a tutti Mmm Non c'è neanche un vetro da sfondare qua Chi è? Eh Accesso denegato Accesso denegato Malfunzionamento Porta Non passa però Questi vetri piccoli Se non ricordo male No, infatti Non ci passa Credo che dobbiamo per forza Passare di sopra A sto punto Chi è? Ho sentito dei rumori Chi è? Mi sono mancato? Teve tornato il papparino Chi è? Eh, eh, eh Eh, eh Piacca sti rumori Molesti Qua è tardi Tutto sto buio Non mi piace per niente Non mi Mi piace per niente Tra l'altro non so se di qua sono già passato Perché La è chiuso Qua è chiuso Essendo una vita che non ci gioco più Non so più dove ero Andati dove non ero Andati Andati Tra l'altro dovrei anche Ok, prendiamo i vinciti là Perché se dovesse essere necessario No Credo che l'unica sia passare di qua Wey Piano con sti rumori Ok Ma è chiuso anche di qua Di là non si può entrare Di là siamo già andati a vedere Che non ci sia qualche vetro da rompere sul lato Qua sta esplodendo tutto Di qua No Sono tutti i vetri piccoli Ma forse devo solo avvicinarmi a qualche porta Che mi dicano Wey Guarda che non puoi passare Poi Vediamo se possiamo prendere qualche cosa Nel frattempo Vendi oggetti Le granate stordenti Non le uso mai Quindi le posso anche vendere Le granate stordenti Anche Kit Medi Kit Piccolo Vediamo un attimo Prima se ho dei potenziamenti Magari posso comprare Eh ma costano Triliardi di soldi Costano davvero tantissimo I potenziamenti degli oggetti Quali sono? No Però vediamo se ci sono magari delle munizioni Sì Sì ce n'è Ce n'è Posso prenderne effettivamente un po' di munizioni E poi compriamo anche Un kit medikit piccolo Sì Andiamo così per ora Sì potrò prendere uno grande Ma Preferisco più caldo E' stato il tenere Quelli piccoli Perché Alla fin fine Quelli grandi Rischi più di sprecarne Ecco Che non sia da attivare Qualche computer Ma anche quello là sopra Non Non funziona Non c'è niente di qua Non c'è niente di dove bisogna andare Anche poi magari semplicemente vuole che io visualizzi qualche cosa e mi dice Ah guarda hai bisogno di quella chiave Qua abbiamo detto che tutto è chiuso Qua l'hai chiuso Qua è tutto chiuso Qua sotto non mi ricordo di aver provato Gas level critical Ma è bloccato un po' Beh però dimostra che comunque qualcosa possiamo essercela persa Non sono autorizzato neanche a entrare di là E questa non funziona A meno che No quelli non sono esplosivi Sentite guardiamo la mappa Allora noi siamo là Dobbiamo andare giù sotto Il che vuol dire Vai dritto e poi vai destra Ma Allora Giriamoci così Oddio Credeva uscisse qualcuno Dice vai qua E poi gira Ma è chiuso qua Bel bimbo A meno che non debba Ok Il problema è risolto Ma non c'era una porta per sto posto Oddio chi è? Parola d'ordine Messaggio automatico 3300 476 Registrato al 248 del mattino Salve non sono in servizio in questo momento Mi sto godendo la vista dell'osservatorio Mio dio è pieno di stelle Aspetta Cos'è quella nave Trasmissione interrotta alle 249 Fine auto messaggio Basandomi su quel messaggio Una griglia di riferimento Per l'ultima posizione Conosciuta dal tecnico Arma di riferimento Armadietto Non fa mai male Uh 200 Eccala No non prende il suoco Non prende il suoco Oddio Oddio Iniziamo Non prende il suoco Mori c'è 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 Ho dovuto usare Ho dovuto usare Mi hanno preso Alla sprovvista No Se lui fossi morto Idiota d'uno Altre scherzi Spero di no Ma invece si Dove ne erano Posizione difendibile Giurma Ci difenderemo Fino alla morte Non avrete mai La mia Corna Dov'è Dov'è sto qua Questa Ok Ok Abbiamo perso Comunque Un sacco di vita Ci conviene Andare avanti Lentamente In questi casi Perché Ok Ok Keycard required. Security level authorised. Il giudice giurma sto commentando poco ma la situazione è abbastanza tesa e io non sono più abituato a questo tipo di situazione. Allora io devo scendere in giù Quindi andiamo a esaminare Su prima per vedere se c'è qualcosa da Raccimolare Eeeh Non so perché mi stia laggando così tanto Mi fa delle lag spike E mica tanto carine Kit medico piccolo che ci sta sempre Andiamo a Utilizzarlo subito Anzi Andiamo a sconcare Magari guardando Eeeh Via Ma da dove sbucano tutti questi? Porca Giù di miseria Oh ma metti ci moriamo Ho un kit medico grande Ho dovuto sprecarci per sta roba qua Ma di nuovo Lasciami perdere Come te lo devo dire Che mi devi lasciare perdere Oh santi Possiamo continuare? C'è qualcos'altro qua? Sembra di nuovo Sembra di nuovo Mi sa che il tecnico non è Più in vita Oddio 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 Questo non mi piace Ah C'è dentro Perché si scuda Quello Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Vabbè Sì gangbang Oh che Kaiser Ma adesso da dove mi fa continuare Mi fa continuare Il vecchio salvataggio Mi sa di sì eh 545 È il mezzo del cammino di nostra vita Dove siamo però in questo momento? Ah ok Siamo tornati qua Vabbè A sto punto direi che il video Possiamo interromperlo qua Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Su Alien Breed Impact Io sono MazziTest Vi auguro una buona giornata Vi invito a lasciare un mi piace E iscrivervi se per caso Non lo resti già fatto Ciao a tutti Ciao a tutti